L'albero che brucia la notte di Natale è il rito che si consuma ogni anno a Camporgiano, una tradizione che viene da lontano. Oggi la struttura che assume la forma di un albero viene realizzata con ramaglie di abete, nel passato era rigorosamente di ginepro. Fino agli inizi del secolo scorso l'albero veniva realizzato nel centro del paese ai piedi della Rocca Estense, ora è il piazzale della chiesa ad ospitare il rito. La sera della vigilia di Natale è in diretta su Noi TV, il gruppo di giovani che lo hanno realizzato ha provveduto all'accensione. Da quel momento l'albero che brucia assume significati arcaici, il calore delle fiamme serviva nell'immaginario popolare a scaldare Gesù Bambino nella mangiatoia, mentre a seconda di come ardeva il falò e di come arde adesso si può intuire quale sarà la prossima annata quanto ha raccolto. Quest'anno la totale assenza di vento ha fatto sì che le fiamme e il fumo si propagassero verso l'alto in modo verticale per cui il nuovo anno sarà un ottimo anno, la terra sarà feconda e darà ottimi raccolti.